Ok, l'abbiamo vista. Ce n'andiamo? Chi di noi è un coniglio? Mi prendi in giro perché non voglio entrare nella casa dove è morto un bambino. Un coniglio! Un omicidio lì dentro. Intrigante. Chi ci viveva? La famiglia Bellows fu una delle prime a stabilirsi qui, alla fine dell'Ottocento. Aprirono una cartiera e il paese finì sulle mappe. Non è meglio salire dalle scale? Ah sì, lo sapevo. Hanno chiuso tutto per bene. Qualcuno ha una penna? Vi presento Lola. È innamorata pazza di me. Più che altro della tua mano. Carino. Lola! Lui fa sognare molto più di te. I Bellows avevano un segreto. Una figlia che non facevano mai uscire di casa. La leggenda dice che aveva qualcosa che non andava. Il particolare agghiacciante è che la famiglia la fece sparire da ogni singolo ritratto. E fino ad oggi non si è trovata neanche una foto di Sara. La ripudierono.